Morphogram è un potenziale nuovo standard per il monitoraggio e la gestione delle patologie metaboliche in quanto si tratta di un metodo di analisi antropometrico di cui abbiamo presentato la domanda di brevetto degli Stati Uniti. Ad oggi la soluzione che offriamo è un software as a service per professionisti della nutrizione e del fitness che consente di effettuare una completa analisi da remoto della composizione corporea e dei fattori di rischio collegati alle diaposità addominale attraverso una procedura rapida e semplificata che utilizza specifiche circonferenze corporee misurabili con un centimetro al nastro. Allora noi abbiamo già partecipato nel 2019 al premio e comunque sia è un evento molto importante per quanto riguarda l'ecosistema start-up sia per i partner istituzionali che lo rappresentano sia anche per attingere a nuove idee e capire come funziona il mercato delle start-up ad oggi come si è evoluto. Allora noi abbiamo già partecipato nel nostro corporea e capire come funziona il mercato delle start-up ad oggi.